La spensieratezza è la dolcezza dell'infanzia, ma anche la maturità dell'adulto con il passare del tempo che lascia segni evidenti sul suo volto. È quanto traspare dai ritratti di Antonella Falcioni. Volti carichi di espressività e di sentimento, volti realistici che nell'insistenza dei loro dettagli catturano lo sguardo di chi osserva e comunicano il loro sentimento. Artista poliedrico, Antonella Falcioni è pittrice e ceramista. Tecniche molto diverse tra loro, materiali diversi per uno stesso approccio artistico. In entrambi i casi fa propria la materia, la domina, ne tira fuori l'anima. Propenza fin da bambina alla creatività, inizia con la pittura tradizionale, per dedicarsi poi alla pittura su porcellana. Frequenta corsi di formazione e specializzazione. L'artista propone i suoi personaggi in un'ambientazione quasi anonima. Lo sfondo è sfumato nel colore, sommario, lontano da quella accuratezza che invece è evidente nel soggetto e che focalizza l'attenzione su esso perché richiama alla mente ricordi, momenti di vita vissuta, episodi talvolta piacevoli e talvolta tristi, sui quali riflettere. Nei suoi dipinti Antonella Falcioni racconta la realtà, quella realtà fatta di persone, di paesaggi, di oggetti con una propria storia, un proprio vissuto. La pennellata è ampia, assorbe la morbidezza del colore, spesso forte, dalle tinte scure, ma comunque caldo e pieno di espressività. Un colore che descrive emozioni, che coinvolge l'osservatore in un'infinità di sensazioni, che lo accompagna nella storia del dipinto. Attraverso la diversa espressività dei soggetti, Antonella Falcioni spiega la propria visione della vita, il proprio modo di vedere la natura in un paesaggio genuino, un ambiente semplice, una situazione realistica, un personaggio vero. Descrive culture e tradizioni talvolta lontane dalla nostra, comunica sentimenti, immagini che vengono dal cuore.